Qual è la sua posizione nei confronti dell'assessore? Ho parlato ieri con Grittini, il quale a suo giudizio dice di non ritenere di aver commesso dei reati. Parte qualche bu e qualche urlo che non era rivolto a qualcuno in particolare, ma a tutti. Credo certamente a quello che mi ha detto lui. A questo punto il sindaco pensa che la conversazione sia realmente conclusa e si confronta con un suo collaboratore. Ma voglio dire che se uno fa bu a un negar, è reato. Ma come fai a dire che io lo faccio a un negar? L'importante però che domani mattina ci sia il Ricci, eh? Sì, domani mattina viene, lui era soglia, vengono qui tutti e due, perché io dirò anche a Ricci domani mattina, al di là di quello che facciamo noi, noi fanno anche lui una lettera. Dovrebbe andare a prepararsi di soglia. Fai una lettera, ecco, e poi non avresti paura, sulla falsarina, doveva essere, di parlare con chiunque. L'avvocato è lui, va nel procuratore. Se è disposto a mitigare, o se invece va avanti, perché la scusa è gravissima, eh? Eh, dicevo.